buona giornata amici da massimo foghetti oggi è lunedì 27 dicembre 2021 riprendiamo la nostra rassegna stampa dopo due giorni di sosta ebbene i giornali non sono usciti il giorno di Natale il giorno di Santo Stefano oggi invece riprendono e riprenderanno così per tutto l'anno una ulteriore pausa per il primo di gennaio e poi si ricontinua una vacanza quella di Natale trascorsa soprattutto in casa dai faresi ma da tutti i marchigiani a causa del maltempo poche le uscite poche le iniziative all'esterno delle abitazioni e quindi una festa passata quasi esclusivamente con i parenti ma diamo un'occhiata a quello che accade nel giorno a partire dalle notizie meteorologiche che il sole sorge alle 7 e 40 e tramonta oggi alle 16 e 38 e oggi si festeggia vediamo la grafica non appare comunque dico che si festeggia San Giovanni non è San Giovanni evangelista quello che si festeggia nel mese di giugno e San Giovanni è evangelista non il battista dunque San Giovanni evangelista era figlio di Zebedeo fratello di Giacomo era anche lui un pescatore e fu chiamato da Gesù quando era giovanissimo insieme al fratello fu il suo apostolo prediletto fu testimone della trasfigurazione reclinò il capo sul petto di Gesù durante l'ultima cena come segno d'amore e sostenne Maria con tutto il suo dolore sotto la croce si prese poi cura della Madonna rifugiandosi a Efeso fu perseguitato per la sua missione fu imprigionato torturato poi esiliato nell'isola di Patmos dove dopo aver scritto il Vangelo scrisse la Apocalisse morì di vecchiaia fosse l'unico degli apostoli che morì non a causa di torture oppure di supplizi morì di vecchiaia alla veneranda età di oltre cent'anni ed ora veniamo alle notizie che pubblicano oggi i giornali partiamo dalla pagina di Fano ecco qui il Corriere Adriatico il Corriere Adriatico riprende il Consiglio Comunale che si è svolto prima di Natale però ovviamente le notizie non potevano essere pubblicate perché poi sarebbero stati pubblicati il giorno della vigilia quando i giornali non potevano uscire ora riparte la cantieristica passa la variante del porto uno scafo lungo 80 metri una opportunità per Fano dice sì anche la Lega e questa è una libera che ha suscitato diverse discussioni nella seduta che si è svolta appunto nei giorni scorsi era l'ultima seduta dell'anno che cosa è accaduto è accaduto che la giunta ha previsto una variante nel piano regolatore del porto invece di costruire un cantiere alto 14 metri ne ha previsto un altro alto 24 metri una variazione importante per quanto riguarda l'altezza e per quanto riguarda anche l'impatto ambientale ecco perché le opposizioni in parte si sono opposte c'è stata molta molta discussione la previsione è stata contestata in modo particolare dal Movimento 5 Stelle Tommaso Mazzanti ha delineato un po' i problemi che avrebbe costituito questa nuova realizzazione è in sorta anche Lucia Tarsi di Fratelli d'Italia per una questione di metodo più che per di merito in quanto le opposizioni non erano state informate mentre Gianluca Ilari della Lega ha detto non perdiamo questa occasione perché è un segno di ripresa della cantieristica e questo darà lavoro a molte persone e qualificherà se poi l'ambiente verrà rispettato come poi suggerisce anche Marchegiani che fa parte della maggioranza sarà una opportunità e una qualificazione in più per l'ambiente portuale ma la festa è stata funestata per quanto riguarda un lutto morto durante la vigilia la vigilia di Natale lo storico animatore della cooperativa Falcineto si tratta di Nicola Mei che è ispirato appunto durante la vigilia Natale aveva dato dignità al lavoro agricolo e anche e soprattutto dignità alla frazione di Falcineto e anche a un vasto circondario appunto dell'entroterra fanese eccolo Nicola Mei aveva 86 anni i suoi funerali si terranno domani alle 10 della chiesa di San Cesareo. Fano cenerentola pure nella cultura ecco un articolo di Spalla il Movimento 5 Stelle chiede conto del mancato arrivo dei fondi del governo ci sono Pesaro ed Ascoli anche Gradara di Fano invece non c'è nessuna traccia nell'elenco dei comuni beneficiari delle risorse del fondo cultura istituito a livello ministeriale per promuovere investimenti mirati a tutela, restauro, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale. Non è questo solo il caso di perdita dei finanziamenti di parte del comune di Fano li ha persi anche sul fronte della viabilità insomma anche sui fronti del turismo per quanto del scusate dello sport per quanto riguarda il mancato finanziamento della zona sportiva della pista di atletica della zona sportiva della Travi insomma soldi che potevano arrivare invece non sono arrivate o per errori o per inadempienze oppure per trascuratezza per quanto riguarda la richiesta di questi fondi e qui appunto il Movimento 5 Stelle insorge. Pioggia invece di contributi per Natale alle associazioni sportive. Dal comune sono stati stanziati 26 mila euro a chi ha promosso eventi di rilievo di ogni specialità. In questo articolo pubblicato dal Corriere Adriatico vengono evidenziati tutti i fondi che ricevono le società sportive a partire dall'intervento più consistente a favore dell'Adriatic Bowl, l'associazione che sta portando ormai da anni il nome della città alla ribalta nazionale per quanto riguarda lo skate. E poi abbiamo 2.500 euro che vengono assegnati all'Aurora Ginnastica per il volume delle attività sviluppate in ambito federale. Altri 2.000 euro alla Federazione regionale delle bocce più altri 5.000 per l'organizzazione dell'Oward che ha ospitato nei giorni scorsi a Fano il gota delle bocce nazionali. Altri 2.000 euro alla AMS Racing che segue la carriera del centauro fanese Marco Gaggi. Poi 1.500 euro all'Alma Juventus per l'attività del contesto federale alla Centinaro Rese per il Memorial Michele Stefano. 1.200 euro al Club Nautico Fanese eccetera eccetera. Qui abbiamo tutto l'elenco appunto delle somme che vengono attribuite alle società sportive per l'organizzazione di specifici eventi. Intrighi a corte, una visita guidata a palazzi e vicende nella città storica. È in programma per domani alle 16.30 con un ritrovo davanti all'arco di Augusto. Se volete conoscere qualcosa di più della città di Fano sia per quanto riguarda i cittadini che i forestieri potete partecipare a questa iniziativa organizzata dalla guida professionale Manuela Palmucci. E ora vediamo invece quello che è accaduto a Marotta. A Marotta si è presentato un libro, un bel libro dobbiamo dire, redatto dal fotografo Varod e l'è ricavato per la postazione estiva della Croce Rossa. Un libro per sostenere concretamente due iniziative di grande importanza per tutta la comunità. Il presidio estivo di ambulanza e moto d'acqua esistenti a Marotta. Più in generale il progetto Mare Sicuro. Si intitola Dietra al Mar. Un libro fotografico molto molto bello. La protezione civile ringrazia Steel Project. L'azienda di Marotta ha dotato la sezione fa di Bruno di attrezzature molto utili. Si tratta di materiali molto appunto importanti per l'associazione quali un elettro utensili a batteria, una smerigliatrice, un avvitatore a impulsi, una sega a gattuccio, lampade a batteria, una cassetta di attrezzo, strumenti veramente concreti che possono essere utilizzati per qualsiasi evenienza. Quindi un importante contributo. A Senigallia hanno fatto la loro comparsa anche durante le feste i vandali. hanno danneggiato le macchine, hanno rovesciato i cassonetti dei rifiuti, hanno compiuto un raid in piazza Simoncelli al foro K.O. alla porta dell'ex pescheria, hanno imbrattato il sottopasso di via Perilli. Si sono divertiti a ribaltare un po' i bidoni, a fare un po' di casciarra, come si dice, così per puro divertimento, per vincere la noia. Ma sono ragazzi ovviamente che devono essere educati ad un senso civico maggiore perché poi questi compiono dei danni seri a tutta la comunità. Veniamo invece alla pagina che riguarda la sanità, sempre sul Corriere Adriatico. Che cosa è accaduto durante le festività? Tra ricoveri e decessi l'ondata non si ferma, ma non è però da arancione. Nel giorno di Natale 21 degenti in più e 5 vittime tra Pesaro, Fermo e Ancona. Gli esperti commentano zona gialla fino a metà gennaio, però incombe l'ombra di Omicron sui contagi. A Pesaro si sono verificati durante le feste 74 casi positivi. A Ancona 201, il massimo in regione. La fascia di età più interessata è quella tra i 25 e i 44 anni dove si sono appunto verificati 125 casi. Da oggi le terze dose per 16 e 17 anni e per la fascia di età 12-15 anni fragile. La circolare ministeriale precisa le priorità di prenatazione per i booster, ovvero per la terza dose. E per quanto riguarda Pesaro siamo ora sulla pagina che sono anzi le due pagine che riguardano la situazione dei pronto soccorso per quanto riguarda sia Fano che Pesaro. La nuova organizzazione dell'emergenza si è imposta per supplire alle carenze, alle deficienze. 106 sono i medici dell'azienda Marche Nord che daranno, secondo le disposizioni della dirigenza, daranno manforte a rotazione al pronto soccorso dal 2 gennaio con un turno ogni tre mesi alla fine di coprire le carenze di organico. E poi c'è questa charging room che è la nuova continuità assistenziale garantita dall'area medica dell'azienda per i pazienti del pronto soccorso con una presa in carico ambulatoriale o con un ricovero in tempi brevi garantendo dove è possibile una dimissione precoce. 43 invece sono i medici e gli infermieri del pronto soccorso che sottoscrivono le dichiarazioni del direttore Umberto Gnudi a cui è dedicato poi tutto l'articolo. Infatti che vediamo la fotografia di Umberto Gnudi è il titolo Tensioni a Marche Nord, il pronto soccorso noi stiamo con Gnudi e l'attestazione di solidarietà di 43 tra medici e infermieri a conferma delle dichiarazioni del direttore del pronto soccorso. Nessuna polemica inutile ma il diritto del paziente ha un posto letto in tempi adeguati perché in realtà ci sono stati pazienti che hanno così soggiornato nel pronto soccorso su una barella per tre giorni. Per l'emergenza però i primari si fanno il turno di Natale e qui abbiamo una intervista su questo articolo di spalla del Corriere Adriatico a due primari. Quello del pronto soccorso di Fano, il dottor Giancarlo Titolo, è il responsabile, il dirigente della chirurgia di Marche Nord, Alberto Patriti. Entrambi nel pomeriggio del giorno di Natale erano al lavoro nel pronto soccorso di Fano. Titolo e Patriti della chirurgia. Un giorno uguale per gli altri, uguale così agli altri, hanno detto i due primari, il nostro lavoro è questo e purtroppo dobbiamo lavorare come tutti gli altri medici anche nei giorni di maggiore festività. Abbiamo diversi temi che hanno sviluppato in questa intervista i due medici a partire dalle difficoltà del loro lavoro, da come è andata la giornata di Natale al pronto soccorso, dalla cura delle altre patologie oltre al Covid. Insomma una situazione che poi va a finire anche nella sfera personale e i medici dicono sì vabbè c'è anche carenza di risorse economiche, però noi non viviamo una vita normale, siamo diventati medici associali, non possiamo più avere una briciola di tempo libero, non possiamo più fare nemmeno una passeggiata. Una carica di 106 medici e in più la charging room, il direttore Frausini e il piano per le Marche Nord dal 2 gennaio. Un piano straordinario per l'emergenza è quello che ha evidenziato, quello che ha appunto scoperto, scoperto nel senso che ha dichiarato il primario del Dipartimento di Medicina interna di Marche Nord, Gabriele Frausini, che annuncia il fare squadra con una carica di medici che dai proprie parti di appartenenza si sposteranno per dare supporto ai colleghi del pronto soccorso, quindi i medici degli altri reparti faranno un turno anche nei pronto soccorso sia di Pesaro che di Fano. e le festività non hanno risparmiato un ennesimo delitto, un fatto di sangue. Uccisa a coltellate dal suo compagno a Gradara, un brutale delitto avvenuto a Natale. La vittima è una sessantenne originaria dell'Europa dell'Est, il presunto responsabile a 80 anni e sembra che la causa che ha originato questo fatto di sangue sia dovuta alla gelosia. Insomma una rottura di rapporti tra la coppia che è sfociata veramente dopo un alterco in modo brutale che non ha lasciato scampo alla donna. La donna è stata coltellata al termine di un litigio, però insomma gli inquirenti hanno subito individuato l'assassino. Chicca gaduta nel canalone recuperata il giorno di Natale. La cagnolina era precipitata durante una battuta di caccia sul Carpegna. E qui vediamo le fotografie di questa cagnolina in braccio ad un suo salvatore. Li vediamo qui anche le squadre di pronto soccorso che sono intervenute. Un Natale particolare per i soccorritori e anche per la cagnolina che è stata salvata. Ad Urbania sono state scoperte antiche tombe romane. Spuntano dallo scavo del collettore Fognario. La sopraintendenza ha quattro sepolture con una varietà di riti funerari in località muraglione a Urbania. Una località che già in passato ha posto all'evidenza, allo scoperto delle strutture romane. Un piccolo gruppo di quattro tombe, forse da collegare a una fattoria antica, databili ai primi secoli dell'età imperiale. Primo, secondo secolo dopo Cristo. La zona era già nota per rinvenimenti romani degli anni Ottanta precedenti. Ed è particolare questo fatto che ci sono tanto tombe ad inumazione, tanto inumati a cremazione. Le tombe sono realizzate con tegole, tavelle, coppi, formando delle vere e proprie casse che sono state quindi ricavate nella terra. Cimitero a San Bernardino, ad Urbino. Lavori contro il degrado. Gli oneri spettano però ai titolari delle concessioni o agli eredi. La spesa è di 135 euro per l'oculo. Ed ora passiamo al resto del Carlino, la cui edizione di Pesaro oggi è ridotta. Abbiamo le sintesi in prima pagina. Casognudi, spaccatura in ospedale. I medici del pronto soccorso in un documento pubblico difendono, sono quei 43 medici di cui abbiamo detto, difendono il direttore dopo le critiche dei primari. E poi ecco qui una foto delle sepolture dell'antica Roma, scoperte ad Urbania. E' morto a 82 anni l'avvocato Ugo Morganti, un uomo molto conosciuto, aveva difeso tantissime persone a Pesaro. E poi a Urbania, preti in isolamento, super lavoro sotto le feste per il supestite. Insomma, anche loro sono vittime del Covid. Cuccioli sotto l'albero, fedelissimi in piazza, un'iniziativa tradizionale in piazza del popolo a Pesaro durante le festività. E poi, per quanto riguarda lo sport, il pagellone della visse Farroni stacca tutti. Vediamo un attimo all'interno. Capodanno in quarantena per quasi 4.000 persone, soli con il virus, ma c'è il nodo dei controlli. E sono anche le persone che trascorreranno la notte di Capodanno da soli, perché sono isolati a causa della positività da Covid. Spesso i nominativi non risultano dai data base dell'Asur, alto là dell'azienda sanitaria. Non possiamo escludere il rischio di fuga, anche perché se questi nominativi sono sconosciuti, nessuno sa se sono in quarantena o meno. Comunque sarà un Capodanno in quarantena per 3.825 pesaresi. In pronto soccorso tutti dalla parte di Gnudi ha ragione, dicono. I malati devono avere un letto e non una barella, dove oltre al problema della malattia c'è anche quello della scomodità. Medici e infermieri del Dipartimento Emergenza scrivono una lettera di sostegno al primario che ha parlato di situazione da terzo mondo. E poi anche l'articolo che riguarda i primari con l'azienda ospedaliera, una spaccatura ormai conclamata. Alla vigilia di Natale i direttori avevano replicato al collega, basta alimentare i conflitti all'interno appunto di Marche Nord. Una intera pagina per una iniziativa che riguarda i proprietari di Cani. Amico Cane, così anche Fido fa le feste. Formate di successo che ci copia tutta Italia. Ebbene, anche se c'è stata la pioggia e c'è stato anche il Covid, questo non ha fermato il tradizionale appuntamento in Piazza del Popolo ad affiancare l'organizzatore Ettore Florio, il testimonial Giacomo Lucchetti, poi la benedizione di Don Angelo Rastelletti della chiesa di Sant'Agostino. Qui vediamo appunto i proprietari di Cani sotto l'albero di Piazza del Popolo a festeggiare il Natale e anche il ritrovarsi insieme in questa occasione. Qui abbiamo invece l'addio a Ugo Morganti, considerato l'avvocato di tutti, aveva 82 anni e stato stroncato da una ischemia. Scrisse un libro sulla professione. Per lungo tempo è stato anche presidente della commissione tributaria. L'ultimo saluto, ovvero i funerali, si terranno domani alle 14.30 in Duomo, mentre stasera alle ore 18 sarà recitato il rosario. Qui ancora abbiamo le fotografie delle tombe romane con addirittura gli scheletri ancora presenti all'interno di queste sepolture trovate ad Urbania. Sorpresa dagli scavi di marche multiservizi in località Muraglione, i sepolcri sono di età imperiale. Alcuni defunti sono stati inumati, altri invece cremati. La presenza di questi reperti era sostanzialmente già nota e quindi anche i lavori sono stati compiuti con delle precauzioni. E per quanto riguarda Fano, invece abbiamo un unico articolo oggi sul resto del Calino che riguarda la sicurezza. Paura di furti e rapine, vigilanza potenziale, in modo particolare durante le festività. Molte aziende hanno chiesto agli istituti di aumentare la presenza di guardie armate per prevenire i danni. Insomma una sorveglianza armata potenziata. E questo è il provvedimento adottato da istituti di vigilanza e forze dell'ordine durante le festività natalizie per prevenire rapine e saccheggi ai danni di banche, esercizi commerciali e aziende. E proprio in questo periodo in cui appunto molte sono chiuse, non le banche ovviamente, ma le aziende, perché mandano in ferie i loro dipendenti ed è un momento propizio per coloro che insomma agiscono nell'ombra e fanno delle rapine, dei furti. E per questo appunto la vigilanza è potenziata. Donne di ferro, cento anni e non sentirli, ma Maria Sant'Angelo Rinvado ed Elma a Cagli sono il simbolo di una vita operosa e salute di ferro. Doppia festa dunque, una per il Natale, una per un compleanno significativo per queste donne di cui abbiamo qui appunto la foto. Ed ora diamo un'occhiata anche allo sport. Vediamo sul resto del Carlino, la visse. Il pagellone ha un dominatore, Farroni davanti a tutti, poi Gavazzi. Ecco la media voto dopo 20 partite. Il portiere, classe 97, ha fatto e continua a fare la differenza. Il capitano subito dietro e a chiudere il podio c'è De Respinis. I suoi gol gli hanno fruttato 10 punti. Qui abbiamo le pagelle che vengono pubblicate appunto dal Carlino con tutti i voti appunto che danno un po' il valore dei giocatori. Nessun dubbio però su chi è stato il migliore vissino di questa prima metà di campionato. Appunto Farroni davanti tutti. Per quanto riguarda invece il fano calcio si pensa al mercato ma si pensa anche alle prossime partite perché ognuna è decisiva. Servono due rinforzi top. Catalano è al lavoro per migliorare la fase di rifinitura e finalizzazione ma la società deve fare i conti con la sua parte per alzare l'asticella. In attacco serve un giocatore di peso per sfruttare meglio anche le palle alte che possono essere decisive nel segnare i gol. Invece per quanto riguarda il basket si festeggia. Si festeggia perché la WL ha segnato addirittura 91 punti contro l'Epicaz che si è fermato a 89. Quindi c'è stato veramente un sorpasso significativo nelle ultime fasi della partita. È l'unica partita andata in scena a Santo Stefano questa della WL ma regala talmente tanto spettacolo da bastare a chi aspettava il basket davanti alla tv. Tanto entusiasmo e qui lo vediamo anche nelle foto che pubblica il giornale per questa partita che vede la WL risorgere dopo fasi alterne delle sue partite. Vediamo se abbiamo tempo. No, non abbiamo tempo per vedere lo sport sul Corriere Adriatico ma ci basta quello sul Carlino per oggi. E questo per il momento è tutto. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 per la Rassegna Stampa. Buona giornata! Grazie a tutti!